SIGLA I GILI QUINTI Non hanno l'uso niente. No, no. Papà è fuori. Si sta sbrigando tutto lui. Mi hanno bruciato la macchina. Quella di mio papà. Io voglio sapere quello che sai. Di arrivare in macchina. I carabinieri pensavano di trovare il fuggitivo Claudio Guerrasio che si era sottratto ad un'ordine di custodia cautelare. L'andrangheta si basa su un sistema ereditario. Mantengono il potere sul territorio tramite la famiglia. C'è un solo modo per rompere il ciclo ereditario. Allontanare i bambini dalle famiglie mafiose dai genitori e parenti prima che diventino adulti e assorbano la cultura del crimine e violenza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS